E continua l'emergenza a maltempo, unita a quella del terremoto. Abbiamo visto Montorio, Isola del Gran Sasso, Torricella e finalmente siamo arrivati anche a Campli con l'assessore comunale Stefano Agostinelli. Come stiamo risolvendo l'emergenza? Come ci troviamo? Le linee elettriche sono state ripristinate? È una situazione veramente difficile che stiamo gestendo da diversi giorni. Comincio a subentrare anche un po' di stanchezza, però andiamo avanti. Diciamo che a Campli la situazione più grave, che era quella di avere persone bloccate in casa, l'abbiamo superata. Da ieri possiamo dire che tutti i cittadini hanno la possibilità di raggiungere comunque le strade e quindi già questo è un grande risultato in pochi giorni. L'evento è stato catastrofico, tanti comuni bloccati e devo dire che la situazione che abbiamo vissuto a Campli non è stata delle migliori. Il terremoto sicuramente ha aggravato un po' tutta questa situazione, ha creato problemi nelle persone che si sono maggiormente agitate. Diciamo che finita la prima fase iniziamo la seconda, l'abbiamo iniziata oggi, è quella dello sblocco delle vie secondarie e della possibilità da dare a tutti i cittadini di poter avere dopo sette giorni l'energia elettrica. Purtroppo l'Enel non è stata preparata a questa emergenza, sta creando diversi problemi, le linee sono difficilmente raggiungibili poiché sulle reti non c'è possibilità di intervento e l'unico modo per dare energia elettrica è quella di avere generatori. Le cabine sono tante, ne servono moltissimi, so che sono posizionati a San Nicolò ma la stessa Enel questa mattina dove mi sono recato mi dice che c'è il problema anche del trasporto. Ci stiamo organizzando anche su questo come comune per dare una mano, stiamo andando con dei mezzi propri a prendere i generatori sempre su indicazioni dell'Enel perché ci tengo a ribadirlo la gestione dell'energia elettrica e della posizione dei generatori è esclusivamente di competenza dell'Enel. Noi possiamo solo dare un supporto logistico, lo stiamo facendo per cercare di limitare al massimo i già tanti disagi che i cittadini vivono oggi nel nostro territorio e per cercare così di essere utili anche all'Enel in questa situazione prima poi di affrontare in una situazione di maggiore calma però questo problema che si verifica ogni qualvolta c'è un disagio o una situazione un po' difficile nel nostro territorio. Ascoltami, se ci fosse qualche cittadino che volesse rendersi volontario, quindi partecipare un po' agli aiuti, come può fare e a chi si può rivolgere? Io ho fatto un appello proprio questa mattina a Facebook perché questa emergenza è stata un'emergenza particolare perché oltre ai problemi di neve, di terremoto e di luce c'è stato anche il problema delle linee telefoniche che ha reso ogni coordinamento difficilissimo. Quindi sto facendo appello alla sensibilità di ogni cittadino di Campli affinché possa andare in aiuto a un'altra persona che ha bisogno. La cosa principale in questo momento che chiediamo è di mettere a disposizione il proprio generatore, chi lo ha nella frazione in cui la luce è tornata perché tante famiglie che hanno questa difficoltà oggi possono comunque essere aiutate in questo modo. Quindi l'appello che faccio è di rendersi volontari e disponibili affinché un amico, una persona che vive in una frazione dove ancora non torna la luce possa almeno ottenere il generatore per vivere in questi pochi giorni, spero ancora di disagio, una situazione migliore. Sappiamo che l'Enel ti ha dato qualche dato da poter dire ai nostri telespettatori, magari per cercare un po' anche di rassicurarli. Sì, io questa mattina ho chiesto almeno informazioni perché fino ad oggi non eravamo riusciti a ottenere su quella che era un po' la situazione del nostro comune. Diciamo che questa mattina ancora erano mille le utenze non coperte, stanno provvedendo affinché questo dato si abbassi sensibilmente nel corso delle prossime 24 ore. Loro contano di arrivare ad almeno 300 utenze scoperte, non danno però garanzie sulla tempistica. Vedo che la logistica che hanno non è proprio delle migliori, quindi non rispettano la tabella di marcia, credo, come si sono programmati. Però ecco proprio per questo anche noi come comune gli vogliamo andare a supporto per mettere a disposizione i nostri mezzi per portare generatori il più velocemente possibile sul nostro territorio. Perché i disagi sono veramente tanti e li vogliamo limitare al massimo. Va bene, noi ti ringraziamo e speriamo di vederci in situazioni migliori. No, grazie a voi comunicare è la cosa più utile che possiamo fare in questo momento, quindi speriamo di incontrarci presto in situazioni migliori. Però anche queste situazioni di emergenza noi amministratori dobbiamo fare il massimo. E credo che tutti noi del comune di Campli, al di là delle critiche e di tutto il resto, lo stiamo facendo. Comunque su questo credo tante persone lo stanno riconoscendo. E quindi ringraziamo noi tutti coloro che ci supportano perché anche l'aspetto psicologico per noi che siamo esseri umani, prima ancora che amministratori, insomma è una cosa fondamentale. Grazie. Vogliamo salutare e ricordarvi di segnalare, come diceva prima il nostro assessore, che se c'è qualche amico, se c'è un conoscente che voi sapete ha difficoltà di movimento e in una frazione non ha possibilità di muoversi e necessita magari di beni di prima necessità, di chiamare il CCS. Quindi vi salutiamo e vi raccomandiamo di segnalare qualunque esigenza.